posso dire dopo inter e milan dopo due sconfitte mi aspettavo una sconfitta anzi fammi sta buona perché in realtà siamo sul punteggio di 1 a 1 mancano spiccioli di minuti la partita sta per terminare però devo dire che la reazione c'è stata e come dopo lo svantaggio dopo il vantaggio del nizza sono qui per commentare tutto per entrare anche nel merito di alcuni singoli nel bene e nel male ho da criticare ma ho anche da elogiare detto questo per chi non lo sapesse mi sembra mezzanotte meno un quarto ma in realtà sono solo le 10 meno un quarto nel momento in cui sto registrando ciao bentornati e ben ritrovati stasera giocava roma nizza io vi invito a lasciare mi piace su questo contenuto per supportare i miei video più mi piace lascerete e più contenuti calcistici vi porterò vi invito ad iscrivervi ad attivare la campanellina per ricevere sempre sul cellulare la notifica in tempo reale ogni volta che pubblico qualcosa così da rimanere sempre aggiornati o altri due canali youtube canale di calcio parallelo a questo bombe di calciomercato tutti i giorni ma ragazzi tra un po di tempo torneranno dei video molto molto interessanti anche sul gaming e con delle novità e canale non di calcio oggi ho parlato di formula 1 ragazzi con fabio tutti i canali in descrizione durante il video compariranno qui allora da dove vogliamo partire io parto dall'undici titolare scelto da josem murigno e poi da quello che è successo nella partita svilar mo ci arriviamo kumbulla smolling vignia mo ci arriviamo karsdorp matic vere tu spinazzola zagnolo perez e eldor shomurodov che inizia e le squadre che hanno oggi affrontato inter e milan siano avanti a livello di preparazione siano avanti e abbiano più minutaggio nelle gambe ragazzi secondo me è palese quella che ha sfigurato meno sicuramente forse è stata proprio la roma ma forse lo dirò perché so departe perché tifo roma però questa da persona oggettiva è stata la mia percezione la mia sensazione no un primo tempo che non è stato poi così esagerato carico di azioni o occasioni da rete incredibili ma ragazzi io devo entrare nel merito di un calciatore in particolare e qui vi lancio uno slogan toglietemi tutto ma non spinazzola ragazzi spinazzola me gratto le palle mentre lo dico perché non si sa mai qua infortuni sempre dietro l'angolo e via dicendo spinazzola ragazzi giocatore veramente pazzesco potrebbe me lo auguro tornare ai livelli di qualche tempo fa prima di quel famoso infortunio e oggi ragazzi non mi sembrava ecco se il nizza mi sembrava più in forma della roma dal punto di vista fisico spinazzola mi sembrava i livelli di quelli del nizza non so se me lo so spiegato ragazzi punta e salta punta e salta punta e salta un altro passo una velocità non indifferente dribbling eccezionale giocatore veramente fondamentale sotto ogni punto di vista per uno spinazzola del primo tempo però c'è da elogiare anche zaleschi nel secondo e adesso ci arriviamo sarà un'arma in più uno spinazzola ragazzi c'ho paura a dirlo ma sarà un'arma in più per tutta la prossima stagione visto che l'anno scorso non ce l'abbiamo mai avuto veramente giocatore pazzesco e si alternerà ovviamente con zaleschi che comunque si è preso la sua dimensione quando spinazzola non c'è stato se v'ho detto toglietemi tutto ma non spinazzola toglietemi tutto soprattutto vigna come terzo di difesa a tre cioè ragazzi niente poi guarda mettetelo in attacco almeno fa meno danni possibili io te voglio bene sei un bravo ragazzo t'ho sempre sostenuto quando hai fatto qualche errore ovviamente l'ho sempre sottolineato non te poi fa magnà così in velocità da uno come brahimi che per carità ovviamente è un giocatore importante però sei indifensore dice la responsabilità non è mia io sono esterno mi ha messo terzo di centrale di difesa l'asse tratta di velocità se stava sulla fascia era una situazione ti potevi ti potevi trovare in una situazione di quel tipo anche da terzino o anche da esterno di centrocampo non te poi fa bruciare così secondo me devi essere anche un po' intelligente e cercare insomma di o cercare evitare di faffa gol del genere però ragazzi anche anche svilara secondo me è posizionato veramente malissimo perché l'anno gli poi concede il palo tuo cioè sembrava stessi a pensare non so io alla patacca probabilmente perché scopri così il palo cioè quello che ti insegnano è ovviamente per carità su errori possono succedere anche i migliori li fanno non voglio bocciare svilara anche perché mi ha dato delle buone sensazioni finora però questo è un errore che poteva evitare perché là sul palo devi sta sicuramente più stretto concedigli il secondo palo utile agire e in qualche modo cerca di prenderla c'è posta azione nata così insomma responsabilità vigna svilara se chiude sto primo tempo ragazzi all'insegna di spinazzola e via dicendo poi ovviamente nel secondo tempo c'è stata anche la girandola dei dei cambi sono cambiati alcuni giocatori e il secondo tempo in realtà nel secondo tempo in realtà ho visto una roma che che ci credeva che voleva pareggiare questa partita con personalità con voglia di fare e in realtà il gol arriva in maniera abbastanza rapida il portiere loro si è reso protagonista di almeno due o tre parate importanti ragazzi e apro una piccola parentesi sapete che non mi attacco alle situazioni calci di rigore manco nelle partite che contano ma io ho visto almeno un paio leggerci di rigore in favore della roma che non sono stati fischiati quello più scandaloso su tutti poi magari ho visto male io ragazzi l'hanno ripassato un paio di volte ho detto me guardavo dicevo boh mi stavo quasi a far influenzare dall'arbitro che aveva fischiato addirittura non solo fallo in attacco ma addirittura ha dato già no giallo a zaleschi per simulazione mi avete detto cazzo ha visto la simulazione io ho visto fallo da rigore poi me sarò rincoglionito io che vedevo di fatto sta che ripeto non mi attacco a queste cose la parata che fa su mancini bulma come lo chiamo io è pazzesca seppur è semplice in realtà no però distanza ravvicinata se ritrova la parata bravissimo a livello di reattività e la insomma roma ha cominciato sin da subito dall'inizio del secondo tempo a farsi vedere no in maniera prepotente preponderante l'autogol lo fa l'emina vecchia conoscenza della serie a manca a fare apposta ci ho fatta a rima bravo zaleschi a sventagliare per karsdorp che mette sto tiro insomma una situazione una cosa in alta vediamo se ultimissima occasione niente insegniamo manco che mani e praticamente trova sta deviazione delle mina e sta palla che entra in rete non può assolutamente evitare evitare l'autogol meglio sicuramente un pareggio che una sconfitta è finita in questo momento perché te pare che vai a vincere non che mi sarebbe cambiato qualcosa ovviamente perché tanto stiamo parlando pur sempre di amichevoli però insomma possono anche dare un po' morale fa una cazzata al portiere su in sencarta con i vedi ha fatto un mezzo un piccio la palla va a pellegrini non si sa come gli ha tirato addosso e ha parato e ha mannato anche a cazzata e su calcio le punizioni in realtà la punizione non è che fosse poi così impeccabile poi ragazzi a livello di altre azioni a livello di altre occasioni c'è stato poco quel tiro di cristante mi viene in mente che raga io continuo a dire che cristante è uno che deve giocare là che deve giocare dietro sulla trequattra però ce ne abbiamo tanti però quando arriva in quella zona di campo raga la botta ce l'ha il piede ce l'ha è bravo sotto quel punto di vista molto più bravo di quando un posto a centrocampo e perdi i palloni ce fa subito ognuno ha le sue caratteristiche io lo stimo tantissimo cristante però su alcune cose deve assolutamente migliorare de zaleschi ne ho già parlato smalling ragazzi stavo a parlare con voi fino a prima che iniziassi il video stavo a giocare ha fatto giocare praticamente 90 minuti incredibile e il sharawi viene provato anche dietro la punta il sharawi giocatore intelligentissimo la dimensione la devi trovare perché l'anno scorso l'ha fatto giocare esterno al posto quando zaleschi doveva rifiare ok e l'ha fatto in maniera intelligente e il sharawi è uno che c'ha anche la caratteristica di giocare dietro la punta e ovviamente raga non vedo l'ora di vedere paolo di bala giusta la scelta di murigno di preservarlo perché c'ha pochi allenamenti alle spalle quindi tifosi della roma con tutta calma ci sarà modo di vederlo non fammolo scoccià subito preserviamolo facciamogli fare tutti gli allenamenti che deve fa rimandata la partita col tottenham ma probabilmente la ragazzi vedremo l'esordio di bala sarò felicissimo di vederlo all'opera detto questo vi stavo per dire una cosa che non vedevo di cio ho paura che fabio vede sto video quindi non ve la posso dire mi piace commentate condividete iscrivete tanto non lo vede però non si sa mai iscrivete a tutti i canali social in descrizione contenuti consigliati belli di casa se vediamo alla prossima con un nuovo video a meno a quella che ha fatto un po meglio tra le big oggi praticamente la roma dai alla fine in parigi ci posta e i rigori ciao